San Paolo Si ero dato Gesù Cristo Festeggiamo quest'oggi la conversione di San Paolo San Paolo che prima di chiamarsi San Paolo era Saulo, Saul Fariseo, nato da famiglia Farisea nella scuola di Gamaliere e molto fervente in quello che era l'attaccamento alla tradizione dei paghi a quella perfezione estrema di quelle che devono essere le credenze e dunque le pratiche religiose Saulo infatti sappiamo che è il persecutore della primissima comunità cristiana sappiamo essere stato presente al martirio del primo martire, il santo Stefano Biacono sappiamo dunque che era disposto a tutto pur di difendere quello in cui egli credeva e quello che era la sua personalità forte, decisa sicuramente anche fanatica si attaglia bene a questo ruolo di persecutore della nuova fede del Cristo e dei cristiani infatti quelli del Tempio gli danno le carte e le documentazioni che rendono pleni potenziali in quello che è la ricerca, la cattura dei cristiani anche fuori del territorio di Gerusalemme, della Giudea e così anche della Galilea infatti si trova in Siria sulla strada di Damasco e quindi la sua attività era veramente decisa crudele ma egli stesso la definisce ero nell'errore e per questo Dio mi ha usato misericordia vorrei mettere in evidenza questo modo di credere che è fanatico di Paolo da quello che è invece la scoperta della vera fede a prima vista potrebbe essere semplicemente un passaggio da una fede all'altra per una convinzione di idee ho conosciuto meglio il cristianesimo e dunque sono passato da un'altra fede al cristianesimo oppure ho capito che il Cristo è veramente il Messia che deve venire e dunque ho fatto un passaggio un passaggio di approfondimento nella fede essendo egli un un ebreo di stirpe da sempre in realtà non è stato così San Paolo non è stato convinto dalle idee era tenasemente afferrato aggrappato alle proprie ben documentate ben conosciute noi diremo oggi una ottima preparazione teologica ma anche un'ottima preparazione per quello che è l'attività pratica e quindi di condottiero di giudice di persecutore San Paolo non è stato convinto dalle idee proprio perché il suo la sua personalità e il suo sapere che chiaramente si è accordato la sua personalità era tenacemente aggrappato fino al profondo del cuore ma egli parla di errore dunque non è un errore teoretico è un errore diverso un errore davanti al quale egli si convince di essere tale questa convinzione gli viene dalla presenza del Cristo vivente il risorto gli appare egli ha la percezione esatta inequivocabile potremmo dire quasi violenta della presenza del Dio vivo e al tempo stesso un Dio vivo che come nei padri antichi come ebbe l'esperienza Mosè o Abramo è innegabile ma al tempo stesso convincente perché è la verità Dio è e non lascia spazi in questo tipo di rivelazioni ai dubbi di ciò che egli è violenza non perché Dio sia violento nei confronti di Saul ma violenza perché sa rompere e infrangere le sue convinzioni e cambiarle in un attimo è una violenza di amore perché il Cristo risorto che gli appare sulla via di Damasco e lo getta per terra è un Cristo che gli fa una domanda perché mi perseguiti e nel momento in cui il Cristo fa questa domanda l'evidenza d'amore del Cristo risorto è già evidente davanti a Paolo e dunque la domanda è sconvolgente perché è l'amore attivo che chiede alla sua creatura di dare una risposta perché non è dunque il Dio vendicativo come poteva essere la manifestazione sul Sinai con il fuoco i lampi il terremoto ma Dio che chiede ragione nel profondo dal cuore di quella creatura che potrebbe essere schiacciata davanti a lui ma egli non lo fa Cristo non lo schiaccia tutta l'evidenza la potenza della sua vita soprannaturale della verità della luce dell'amore sono lì davanti a Paolo e invece di schiacciarlo invece di farlo morire gli chiede la ragione perché mi perseguiti e la ragione è quella che Paolo poi scrive ti perseguito perché mi sono sbagliato sono stato nell'errore fino adesso qual è dunque l'errore di Paolo l'errore di Paolo è di non aver creduto non solo che Cristo sia risorto ma che Cristo fosse Dio ma che Cristo fosse Dio l'errore di Paolo è stato quello di avere un approccio della fede attraverso la scrittura quasi idolatrata la scrittura che diventa superiore al Dio che la produce è in nome della scrittura cioè della legge che vive scritta che il Cristo è stato condannato in nome della stessa scrittura Santo Stefano è stato condannato ma può la scrittura la legge di Dio mettere a morte la vita stessa la vita che viene presa è la vita materiale ma il Cristo è risorto ed è risorto e lo dimostra con la potenza piena e la sua divinità la luce lo abbaglia rimane anche fisicamente accecato e questo è un segno grande una luce vera che egli ha visto che gli brucia in qualche modo le pupille perché mi perseguiti? perché mi sono sbagliato io ho seguito quello che ho scritto nei libri ma senza comprendere la fonte viva di Dio che è amore perché? perché tu adesso potresti uccidermi potresti vendicarti e non lo fai io conosco che tu sei il Dio vivo e vero ma riconosco che mi ero sbagliato e ti ho cercato laddove tu non c'eri Gesù aveva detto ai farisei voi che cercate inutilmente la salvezza nella scrittura voi non capite che la salvezza viene dall'intervento del Dio vivo in voi e vi vivifica vi fa essere creature nuove voi invece cercate la salvezza nel cercare di praticare senza Dio vi ho dato ma senza contare sulla potenza verificante in altre parole Cristo poteva dire io che sono Dio vi ho condotti nel deserto e vi ho dato delle norme ma poi non vi ho lasciato con delle norme vi ho detto come dovete comportarvi ma è il mio intervento continuo e diretto che vi ha guidato vi ha nutriti e vi ha salvato dopo che avete ricevuto i comandamenti io sono sempre stato con voi una colonna di fuoco o di nubi che vi guidava di giorno o di notte la manna tutti i giorni per nutrirvi la roccia che vi seguiva da qui scaturiva l'acqua di cui avevate necessità vitale io ho sbaragliato i vostri nemici davanti a voi io ho diviso il Mar Rosso io i liberati dal faraone non è la legge la legge è la norma che vi do come punto di riferimento perché sappiate quello che il vostro cuore innebbiato non comprende più ma sono sempre io che vi guido e vi do la vita non vi ho dato un regolamento e poi vi ho abbandonati per giudicarvi se siete stati bravi a seguire quelle regole o meno io sono il Dio con voi io sono l'Emmanuele io sono colui che vi guida io sono colui che sta in voi adesso e venute dal di dentro questo San Paolo comprende in un colpo comprende che Dio il Cristo avvolge le sue creature il popolo che gli ha salvato coloro che gli sono fedeli vive in loro e dà la vita in loro ed è per questo che dice perché mi perseguiti perché è perseguitare un fedele di Cristo è perseguitare Cristo che vive in loro San Paolo svilupperà tutti questi temi in modo molto articolato a lettere romani a lettere ai galati a lettere agli ebrei ciò che salva non sono i sacrifici le leggi che prescrivono quei sacrifici o le norme questo è ciò che Dio vuole da noi ma quello che ci salva quello che ci cambia quello che ci lava dal peccato quello che ci purifica quello che ci rende buoni da cattivi simile a Dio a sua immagine veramente l'intervento del Dio vivente che è sempre con noi e ci accompagna Saulo perché mi perseguiti ero nell'errore signore non avevo capito che tu eri vivo ed eri dentro di noi dentro al tuo popolo ho seguito dei fantasmi delle ombre ho seguito le regole senza comprendere che tu sei la via la regola la legge la via è Cristo perché ci illumina da dentro ci conduce e quel che troviamo scritto in quelli che sono i codici anche noi il catechismo è quello che ci deve ricordare quello che abbiamo dentro semmai ce lo dimenticassimo ma quello che dobbiamo cercare non è l'esattezza semplicemente delle norme ma di lasciar vivere l'amore di Cristo in noi ed ecco la trasformazione di Paolo che da fanatico che è un vizio dell'umanità diventa colui che ama tutti gli uomini perché li vede amati da Dio in Cristo e salvati da Dio in Cristo e dunque porti il messaggio di salvezza perché le menti anche dei pagani siano consapevoli della salvezza che hanno ricevuto e dunque si siano coloro che si avvicinano al Dio ringraziano e si adeguino al suo amore per essere salvati scopre Saulo l'amore dell'io vivo e amore vivo che ama da lì dentro e vede non più divisioni popoli muri di divisione i salvati i 144.000 e tutti gli altri sono morti come direbbe qualche setta ma vede uomini tutte creature di Dio tutti abbracciati dall'umanità di Cristo che devono essere raggiunti dal messaggio dal Vangelo di Cristo perché Dio la gloria a Dio se sono salvo è per il Cristo e se posso cambiare perché il Cristo ha già operato in me e se posso diventare colui che deve diventare la pienezza secondo la vocazione che abbiamo ricevuto è per il Cristo che vive e mi dà forza mi dà la capacità di arrivare ecco allora il cambiamento del nome di Paolo con il solo opportunismo Paolo dei Gentili un nome romano Saulo un nome classico ebreo e poi capisce che dopo aver predicato agli ebrei ai suoi connazionali con tutto l'amore possibile deve rivolgersi a tutti gli uomini ed ecco che diventa l'Apostolo delle genti cioè dei pagani in conformità in conformità a questo amore che gli è apparso davanti agli occhi e dopo avergli fatto cadere quelle scaglie che lo rendevano cieco e incapace di comprendere come il fanatismo fa sa vedere non uomini di altre religioni ma uomini che devono essere salvati che anelano la salvezza ma non conoscono da dove la salvezza venga loro e chi sia il salvatore sia questo annuncio di Paolo ma soprattutto questo incontro con il Cristo vivo il nostro obiettivo non sono le norme umane le tradizioni dei padri che ci saldano ma questa vivacità questa vita eterna che è presente davanti a noi e in noi quest'amore bruciante che va oltre ogni differenza e vede ciò che c'è un uomo un'anima che deve essere salvata deve entrare in paradiso e per quest'anima Paolo dà la propria vita Dio vi benedica